Sì, oggi è stata una giornata molto istruttiva. Abbiamo prima visto il Parco Olimpico, quello fatto per le Olimpiadi del 1972 e verificato in che condizioni sono le strutture. Sono struite ben 40 anni fa. Sicuramente è un modello da portare in avanti in Italia dove si guarda poco alla manutenzione degli impianti mentre qui ogni anno fanno tantissima manutenzione. In questo modo gli impianti si possono mantenere. Sono stati costruiti dei palazzetti, una piscina olimpica in maniera non invasiva, che si sposa benissimo con tutto quello che è intorno. È una bellissima zona verde ed è un modello in chiave moderna di quello che si vorrebbe fare nell'area Expo per il dopo Expo nel 2015, a inizio 2016.